Si ispirava alla banda della Magliana della fiction romanzo criminale, l'organizzazione di spacciatori di cocaina sgominata all'alba di oggi nel Palermitano dai Carabinieri, che hanno arrestato 14 persone nell'operazione Big Party, coordinata dal procuratore aggiunto Maria Teresa Principato e dai PM Marcello Viola e Gianluca De Leo. Gli appartenenti alla banda criminale non si chiamavano mai per nome al telefono o sui social network, ma usavano nomignoli come Baby Ciccio, Totò Americano e Ranetta, proprio come facevano il Libano, il dandio e il freddo di un romanzo criminale. Inoltre cambiavano in continuazione utenze telefoniche intestate a terze persone. Per altro verso, dalle intercettazioni emerge il consueto linguaggio operativo per nascondere la richiesta e lo scambio di stupefacenti. Le dose erano chiamate orologi, pantaloni, sfincio nello piccolo per l'ascisce, sfincio nello grosso per la cocaina. Un'attività investigativa paziente e costante ha permesso dunque di ricostruire il puzzle delle relazioni, delineando infine un unico sodalizio criminoso che con connotazioni di spinta professionista delinquenziale aveva monopolizzato le piazze di spaccio di Bagheria e Palermo, spiegano i carabinieri. In particolare l'associazione si articolava in due distinti sottogruppi, dediti allo spaccio al dettaglio, rispettivamente di hashish e di cocaina. Dopo le lute le investigazioni della polizia giudiziaria prediligevano per organizzare dei cocaina party l'utilizzo di social network quali Facebook e Twitter, appunto per attirare i giovani della zona a cui veniva offerta gratuitamente la cocaina in maniera tale da fidelizzare la clientela e soprattutto da allargare il giro. Con questo sistema erano quasi giunti alle porte di Palermo riuscendo a totalizzare un volume di affari quotidiano per diverse migliaia di euro. Inoltre un altro elemento che noi abbiamo dato era l'utilizzo di una tecnica quasi alla romanzo criminale declinata in una versione palermitana. Infatti gli odierni arrestati non utilizzavano i loro nomi propri ma avevano inventato dei soprannomi particolari attraverso i quali erano conosciutissimi nel comprensorio e che associati all'utilizzo di schede telefoniche non direttamente riconoscibili alle loro persone gli garantiva di fatto l'impunità nell'attività di spaccio.